Konichiwa e benvenuti a tutti quanti con voi nel mio canale sono come sempre Giappogamer benvenuti a tutti quanti qui su Gran Turismo Sport ovviamente dobbiamo continuare la GT League o meglio la modalità carriera la classica modalità carriera di Gran Turismo che qui sarebbe battezzata la GT League al momento ho totalizzato 19 vittorie sono nel campionato dilettanti e oggi andiamo a farci il TT Tourist Trophy Gara 1 nella Speedway Northern Isle ovviamente va a TT Coupé campionato diciamo Coppa Monomarca più che campionato, il campionato è quello dilettanti Coppa TT Tourist Trophy Coppa Monomarca appunto ripeto tutte quante audio uguali io la mia l'ho leggermente migliorata abbiamo un po' di far si di di vincere le gare ah è notturna che figata poi partiamo sempre ultimi ma porca la miseriaccia boia dai guardate qua che figata la mia Audi grigio metallizzata grigio topo metallizzata bellissima la vediamo un po' abbiamo cerchato di prendere qui la solita scia un po' tutte quante eeeh che bella l'ipre amico vai così vai così ottimo 15 giri per cui abbiamo tutto il tempo per superarle questa internamente va bene così 40 secondi non è il miglior intertempo no scusate il miglior giro qui qualcuno ha fatto meglio di me eccolo qua il miglior intertempo bene così 7 secondi siamo a 14-13 secondi dal primo e dai amico su spostati iniziamo a macinare record sul record occhi amico però mi freni così davanti 12 secondi già al distacco 11 bene così 11-6 bella questa gara notturna di questo circuito da NASCAR figata veramente figata poi la seconda gara con il Dragon Trail in Croazia tre giri e poi addirittura l'ultima gara terza gara sul Nurburgring per cui giro completo per cui non so quanto ci metteremo là oh amico mio e togli di su 6 secondi bene così siamo al quinto giro già ottimo bene così altro intertempo migliore e siamo sesti 3 secondi intanto dal primo bene così 2-8 bene così eccolo lo vedo eccolo là dai che siamo quinti dai che siamo quarti non mi beccare ok il muro bene così bella salivrea fighissima nera e viola spettacolare dai venite qui da zio giabbo gamer da che siamo terzi mamma mia che bordello no 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 mamma mia a momenti finiamo in testa coda l'hai fatta apposta bastardone fammi scappare ma l'altro io li ribecco venite venite ok ci vuoi c'è anche un doppiato tra le altre cose non so quali sia di questi ok forse questo rosa boh non saprei sinceramente che il primo è questo qua con la livrea nera e rossa è una bella livrea pure questa complimenti ragazzi tacci tua rosa volete farci no il rosa invece è del secondo ok finlandese cuisma il primo è il messicano grau e becca di questo va tacci i vostri non mollate mica siamo al dodicesimo giro ne mancano tre ok adesso te ne vai eh oh statene dietro va guardate che figata vai così prendimi la scia anche internamente ok schioppa guardate che siamo primi no cazzarola ecco il rosa maledizione è tornato quello che era terzo bravi incidentati va quattoresesimo giro bene così vai così vai così ultimo giro ultimo giro non ci provare no 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 non ci provare tu non ci provare si yatta yatta l'abbiamo scusata questa vittoria mamma mia ci volevamo fare le feste ci hanno provato a buttarci fuori due volte va bene ok comunque vittoria ventesima vittoria in questa gt league 35.000 denari bene così accumuliamo tutto bene bene e ok dirigiamoci subito alla seconda gara dovrebbe essere la dragon trail in croazia dovrebbe essere ancora qui tre giri e poi un giro a nurburgring in germania giro intero poi mamma mia incredibile non so quanto dovrà tipo 40 ore un giro intero a nurburgring no scherzo insomma non so forse un quarto d'ora venti minuti non lo so sinceramente ovviamente partiamo manca a chiedere sedicesimi ultimi vedete qua il rombo del motore incredibile e ok bene così e ok vediamo un po' questo ovviamente molto più tecnica rispetto alla speedway ma viene da sei proprio e già 20 secondi e si e vabbè 23 24 25 abbiamo fatto un mega recuperone come al solito ok quindi è quella al contrario bene ognuno si è incidentato oddio 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 che bello che pezza che gli ha dato porca la miseria ma perché poi fanno uscire con la bandiera verde poi anche con quella gialla porca la miseria eh botta pure per noi non mi ricordavo questa curva sinceramente però no abbiamo perso posizioni bene bene siamo dodicesimi vai così vai così tagliamo un po' ed eccoci qua decimi tra poco noni ok bene così un'altra inchiodata ok bene così da che siamo ottavi dobbiamo fare un mega recuperone aio aio brutta botta quella potremmo pure evitarla un po' si è rovinata la macchina no la macchina non si è rovinata va bene va bene cosa positiva cosa positiva ok quindi siamo su rettilineo bene quindi finisce qua il primo giro 15 secondi di stacco circa forse da 14 si eeeh è andato addosso eh io pure bingo comunque pure gli altri vanno addosso non sono non sono l'unico diciamo ok siamo sesti al momento dai venite qua tazio giappo gamer qua c'è la chicane bene vai così prendimi un po' la scia cazzarola sta curva maledetta non la dimentico sempre va bene ok l'importanza è che non aver perso posizioni siamo quarti a 10 secondi e 3 2 1 10 secondi adesso spaccati dal primo oh oppela e io pure che non freno le curve si è rovinata eh si stavolta si è rovinata una bella botta però forse è già un po' prima prima la curva era a destra per cui verso sinistra in realtà vabbè comunque ci siamo capiti bella sta livrea complimenti caro fatto di abbinare al nero dei colori sparati così sgargianti da che siamo terzi da che siamo terzi nel frammento che parlo un'altra inchiodata pure quella andava per fratte il secondo e andiamo a caccia del primo eccolo laggiù eccolo laggiù ok bene bene gli stacco di 8 secondi e 4 vai così un po' di drifting andiamo a ribeccarlo a quello anzi a beccarlo a quello 8 secondi 7 e 9 dai vieni qua da zio giappo gamer bene bene così quella chicane eccolo la ok questa curva quella bastarda che non becchiamo mai ecco adesso sicuramente meglio dai che abbiamo un po' recuperato dai 4 secondi 8 dai vai così 3 secondi e 52 dai è 0 52 centesimi ecco andate leggermente lunghi maledizione non so non so perché riuscirla a portarla a casa non so sinceramente eh no 8 secondi 8 e si sta su rettiline adesso eh no vabbè vabbè siamo arrivati i secondi dai buono uguale non si può vincere sempre vabbè vabbè magari questa qua me la rifarò per conto mio va bene così dai secondi coppa d'argento bene così 20.000 denari punti esperienza siamo a livello 18 bene così e adesso andiamo subito alla terza e ultima gara per quanto riguarda questo questa coppa TT Tourist Trophy Trofeo dell'Audi TT andiamo gareggeremo al Nurburgring belle le riprese che hanno anche gli altri insomma utilizzano il nero con colori sparati insomma un giallo sparato un verde sparato insomma belle anche un rosa discorsi mi piacerebbe poi andare un po' a vedere l'editor vedere un po' come funziona non so se sarà come quello di Need for Speed non credo sinceramente e ok bene iniziamo la gara qua a Nurburgring che non finirà mai un giro e per fortuna che sennò 3 2 1 oddio non so se ci sarà anche il traffico sinceramente non saprei mamma mia vai così vai così oddio che pure un po' gli foschia che figata ecco la lana apri la botta immancabile ci sono fatti la fiancata nuova tagliamola questa va andiamo un po' così va che figata questa qua davanti mazza nera e un verde fosforescente figata figata non so se all'alba o al tramonto uno delle due perché tocca stare con i fari accesi per cui dai venite qua dai su 23 secondi l'allero comunque la gara è lunga dai venite qua va oh bella si andate tutte un po' lunghe eh bene bene da che siamo dodicesimi oppela scusa eh ti metti proprio in mezzo tu mi freni davanti mamma mia vai così porca la miseria qua comunque il nubo green è veramente di un tecnicismo veramente assoluto tagliamo di qua va 2 minuti e 21 ok ci sta un'altra serie di curve e contro curve vai così vai così salve gente tutto a posto ok ok eeeh si mamma mia che curve ok eccoli qua va dai vi vedo vi vedo siamo noni al momento e siamo più o meno a metà più o meno credo no forse ancora no vai venite qua venite qua aio ah ma ci stai sotto il decimo eccolo porca la miseria non ci provare vai vieni qua vieni qua tu bene così dai ottavi scala 10 secondi vai così a cannone frenata frenata un po' di drifting bene venite venite no ancora tu e dai che strazio però venite venite oppela scusi eh non ti metti davanti così su allora oppela scusi ok dai che siamo quinti c'è il quarto e c'è il terzo davanti bene i primi due eccola eccola anche il secondo ok bene così dai che siamo quarti dai che siamo secondi no siamo terzi scusate ho flashato il secondo sta lì davanti a noi dai vieni qua vieni qua 7 secondi e 2 dal primo magari riuscissimo a prendere curve un po' meglio no cazzarola eh eh sì vabbè tutti no 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 porca la miseria questo è il primo errore proprio non si perdona ecco pure tu vai fuori eh pure voi fai fuori pista eh un po' sgamato un po' sgamato questa è tosta nooo cazzarola eh no quinto posto non ci sto eh venite 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 porca la miseria venite venite qua venite qua oppela dai un po' incidentate pure voi bene così siamo di nuovo di nuovo terzi iniziamo a tagliare un po' le curve va vai così a cannone è fighissima questa nebbiolina dovrebbe essere mattina credo una bella corsetta all'alba qui in Germania 8 seconde 6 8 e 5 8 e 4 dove gaspia sta eccovi lassù eccovi lassù porca la miseria che botto vabbè passiamo di qua porca la miseria passiamo per i box nooo cavolo oddio che figa ha dei box ok siamo arrivati quinti passando per i box vabbè questa magari poi mi la ah benvenuto all'inferno verde trofeo guadagnato bene così beh veramente effettivamente è un inferno verde vabbè insomma è stato un po' un po' un fritto misto questa coppa Audi TT ok vediamo un po' poi magari me la rifarò per conto mio questa gara non ho mai passato nei veri box di questo Gran Turismo Sport va bene vabbè quindi abbiamo un primo un secondo e un quinto posto va bene così 20 vittorie totali ho l'evento giornino completato è boni dai 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 vai di macchinone vai di macchinone vai di macchinone dai sì bene così dai ottimo così Aston Martin di P100 Vision Gran Turismo gran macchinone guardate da qua che figata altro che la macchina di Batman figata questo macchinone ma ad averci i soldi per comprare certi macchinoni vabbè tutta un'altra storia allora siamo arrivati alle 20 vittorie pari pari in questa GT League ovvero carriera di questo Gran Turismo Sport chiamata come mi pare a voi uh bella Singapore Marina Bay e e vabbè per il momento ovviamente per quanto riguarda questo ah no aspettate un attimo c'è un bonus da riscattare boni tutti boni tutti dove sta il bonus eccolo qua distanza percorsa va bene 1000 punti miglia 3000 punti esperienza sì scavalliamo le allo 19 bene così bene bene così livello 19 quasi livello 20 ottimo così bene così allora per quanto riguarda questo ennesimo episodio di Gran Turismo Sport spero che vi piaccia fatevi seriare la vostra con un commentito e beh se potete arrivare anche a 10 likes per supportare la serie mi fareste veramente un piccolo favore sarei veramente molto molto felice e se potreste anche condividere con i vostri amici sarei ancora più felice per far conoscere Giappo Gamer in lungo e largo dal vostro Giappo Gamer è tutto io vi ringrazio per essere arrivati fin qui uno a uno vi abbraccio molto forte dal vostro Giappo Gamer è tutto sayonara né e ai prossimi episodi Giappo Gamer Giappo Gamer Giappo Gamer